Chi è pescatore completo? Se un pescatore arriva a capire che ciò che offre nel fiume, nel torrente, eccetera, è gradito al pesce, alla trota o al temolo, è arrivato al suo successo. Simplificare la tua vita è così difficile, tutto ciò che sta portando a te diventare più complessi. E Arturo, ha la vita che ho voglia di diventare. Grazie. Grazie.